Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa influencer Soleil Sorge ha commesso una gaffe su Instagram che ha scatenato una reazione mista tra i suoi fan. In un momento in cui la fiducia degli utenti social verso gli influencer è già scossa, ogni passo falso viene scrutato con attenzione. La gaffe in questione è stata rivelata quando Soleil ha aperto una sessione di domande su Instagram e ha condiviso uno screenshot dei quesiti posti dai suoi follower. Tra le domande ce n'era una riguardante il marchio degli occhiali che indossava all'arrivo a Venezia, regalati da un brand per la mostra del cinema. Tuttavia, la domanda era stata posta da un utente con lo stesso nickname di Soleil, rivelando così l'ingenuità dell'influencer. La reazione dei fan è stata variegata. Alcuni hanno difeso Soleil, mentre altri l'hanno criticata apertamente. Nonostante si tratti di un errore comune, la situazione evidenzia la crescente insoddisfazione del pubblico verso i comportamenti degli influencer. Questa gaffe si inserisce in un contesto più ampio di sfiducia e attenzione costante da parte degli utenti social, che sono sempre più pronti a punire qualsiasi errore commesso dagli influencer. È evidente che il mondo dei social media sta cambiando e coloro che hanno in questione del settore dovrebbero essere consapevole di questa evoluzione.